Cento anni di storia del design ospitati nella sede di Borsa Italiana. In occasione della settimana del design, Piazza Fari ha accolto una collezione unica, che fa una panoramica completa del mobile moderno. Le opere sono state esposte nella storica Sala delle Grida, trasformata in un vero e proprio museo. Credo sia una grande opportunità per Borsa Italiana, noi riteniamo che la Borsa debba essere sempre più vicina al pubblico, sempre più vicina alla città in cui opera, in cui noi lavoriamo tutti i giorni e volevamo fare qualcosa che potesse essere patrimonio comune e credo che ospitare una mostra del design come questa, molto bella, che peraltro a Milano non era mai stata vista in passato, sia stata un'opportunità unica che abbiamo preso al volo, abbiamo colto la palla al balzo, come si suol dire. Gli oggetti, tutti originali, hanno offerto ai visitatori molteplici percorsi, segnati dalle opere di maestri italiani e internazionali. Abbiamo fondato Musei Italiani con la convinzione che bisogna ripartire dal nostro patrimonio culturale, perché è importante che le future generazioni imparino da quello che i grandi maestri dello secolo scorso hanno creato. Siamo partiti da questo museo perché è un documento storico e perché con la sua eleganza e il suo stile racconta con i suoi pezzi iconici cento anni che per noi sono stati fondamentali. Un evento che ha confermato quanto sia importante per Borsa Italiana un solido rapporto con uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy.